Nell'ambito della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere indetta dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1999 con una risoluzione del dicembre di quello stesso anno, io esprimo tutto il mio sostegno a Chetty Caraffa che si batte contro la violenza di genere con il suo progetto Le donne acqua nel deserto, una voce alta e forte alla quale io mi unisco e che dimostro anche con il mio lavoro di aver sempre appunto sostenuto combattendo la violenza contro le donne sia psicologica che fisica sia in casa che sia all'esterno nella società con i miei romanzi, con i giornali da me diretti, da Gioia a Diva e Donna a cui continuo a collaborare, sono anche testimonial del dire donne in rete contro la violenza e quindi io penso che tante voci messe insieme, tanta forza messe insieme, tanta unione da parte delle donne permetta di far finire o perlomeno veramente ridurre all'estremo limite questo scempio che uccide una donna ogni tre giorni e che vede anche nel 2018 70 donne uccise e quindi e quindi e quindi e quindi